Positivo Alessandro Criminale nella speranza che mi tiri fuori qua Superamento zona rossa di Vittoria KK se senti ancora Radiomodica Ciao Topolino certo che ti sento buonasera e qua rimproverava Alessandro che c'è la parabola puntata a sud Topolino avanti se ancora mi tiri fuori Ciao Alessandro Criminale buon fine settima tante cose belle si ci risente Ciao Topolino Turi signori buon pomeriggio per tutti Radiomodica Vittoria Saluta Ciao